buongiorno e benvenuti da borsari strumenti musicali oggi vi spiegheremo un concetto molto semplice ma che non tutti sanno allora parliamo di microfoni a condensatore e alimentazione phantom perché sono arrivato a fare questo video perché molte persone acquistano il loro primo microfono a condensatore vanno a casa lo collegano il microfono non funziona tornano in negozio mi dicono simone non va al microfono che ho comprato e io dico ma dove l'hai collegato allo collegato alla cassa e la cassa all'alimentazione fatto no ecco questo è il motivo perché il microfono non va nel senso che questi microfoni per funzionare hanno bisogno di un'alimentazione a 48 volt quindi se il microfono non è dotato di pila che quindi presumibilmente potrebbe avere una alimentazione interna bisogna necessariamente attaccarlo con un cavo che non che hanno quindi questo si inserisce direttamente sotto e questo si inserisce direttamente nel mix qua abbiamo un esempio di un mixer ve lo tiro fuori vi faccio vedere dove qua vado a inserire e automaticamente c'è il bottone phantom power vedete più 48 volt quindi schiacciando questo bottoncino si accende la lampadina e significa che sui canali canon arriverà questa corrente a 48 volt capace di alimentare il microfono senza questa corrente il microfono non può assolutamente funzionare questo chiaramente vale per i microfoni a condensatore che hanno appunto bisogno di questa alimentazione in commercio esistono anche i microfoni dinamici quelli che si usano principalmente sui palco e che hanno sempre lo stesso attacco canon ma non hanno bisogno di 48 volte per funzionare proprio perché non sono a condensatore ok quindi spero che questo concetto sia diciamo vi possa aver illuminato per chi non lo sapesse ecco quindi ribadiamo alimentazione fanto 48 volte si può alimentare attraverso un mixer attraverso un cavo che non niente io vi ringrazio di avermi ascoltato mi invito a iscrivervi al nostro canale youtube a condividere i nostri video e vi aspetto naturalmente qua da borsari strumenti musicali rotondatori per acquistare i vostri strumenti grazie a presto ciao